Non lo sottolineerò mai abbastanza. Faccio un esempio. Se in generale nell'UE riduciamo la temperatura del riscaldamento che a volte funziona giorno e notte di solo 2 gradi e per l'aria condizionata è lo stesso ma in senso contrario, potremo risparmiare l'equivalente di tutte le forniture di Nord Stream 1. Quindi il potenziale è enorme.